Allora, Sandro, fai zitto, iniziamo, 3, 2, 1, ok ragazzi, benvenuti, premiamo la prima tranche degli Iron Child, quelli che hanno fatto i 600 metri stile, ma che dico 600, 700, 800, diamo la coppa a vittoria, prego Deppa, la nostra bella modella, premiamo il bimbo più veloce del fino, eccolo qui, bravo, 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 Sofìa, la figlia di Sandro, contenta? Volevi fare il meglio? Ma no, sei stata bravissima, prego. Premiamo Pietro che non è mai tornato indietro ma ha finito la sua gara benissimo, bravissimo. Pizze, porta Francesco, Francesco, porta Pizze. Vai Francesco, bravo. Ecco, colui che ambirà a viola alla mano di viola gallo, complimenti del vaccino, prendi la coppa, alzano al cielo, alzano al cielo. E devi dire papà, noto meglio io di te, ti è? Allora premiamo i più piccoli, i più piccoli della gara dell'Iron Child. Inizierei da questo bimbo, è appena arrivato, penso, prima volta che nuoti, vero? Ok, perfetto. Come ti chiami? Andrea. Andrea, chi è tuo padre? Ma lui lo sa? Direi che adesso si passa ai bimbi più grandi. Uno, due, tre, quattro. Iniziamo con Lorenzo Casetto. Prendi la coppa, alzala al cielo, guarda tuo padre. Dove è tuo padre? Dov'è la mamma? Questo bimbo è senza genitori. Allora, dicevamo chi sei? Amos? Sei molto felice oggi, eh? Prendi la felicità proprio a poco. Papà ha vinto il titolo. Nonna è felice per te. Mamma è sparita. Dov'è? Mamma è laico. Va bene. Andiamo per la tua gara. Amos di detta. Fai un applauso, un applauso. Tocca adesso al figlio dello scuolo. Tony Shark ha detto, papà, tu sei Tommy Shark. Com'è andata Tommy? Lo sai che hai fatto meglio di me? No, è una valla. Non è vero, però guarda, ci mancava veramente bene. Complimenti, Tommaso Amaro. Bravissimo. Vuoi dire qualcosa a mamma? Auguri! Auguri mamma! Perché forse non tutti sanno che oggi Tiziana Mato fa... E' una gioia. Tanti auguri a te, 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 tanti auguri a te. Tommaso Amaro. Qual è la coppa? Ma solo qua ce l'abbiamo. E chiudiamo con Jacopo che ha fatto una grandissima gara. Quanti hai fatto? 11, 200 metri, 7, 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 8, 8, 9, 9, 10. Jacopo, prego, prendi la coppa. La mia moglie sta spaccando letteralmente le palle a Bussoleno a un torneo di cagli. Mi odierà a vita. Allora, premiamo con le ultime due coppe due bimbe. Si chiamano Ginevra e Nerea, giusto? Consigli. E allora, prego la vostra valente di premiare anche le bimbe. Sei un barman, no. Giratevi. Prendetevi le coppe. Prendetevi un applauso che le donne donne. Allora, passiamo alla gara più vincente. Alla gara delle Iron Booman. Portiamoci sul podio. La faccio io. Faccio io la balletta. E lo so perché fai tu la balletta del suo pulbone. Ok, iniziamo da Sara. Complimenti per la gara Sara. E' il tuo marito che è fierissimo di te. Guardalo. L'unico che la prese che non sta mancando la gara. Iniziamo a Sara. Un applauso. Bravissima. Bravissima. Complimenti. Grazie. Io direi che il suo nuovo nome è Roberta Phelps. Vota come Phelps. I piedi però mi pagliano più stretti. Oh ma scusa, nella classifica generale quanto sarebbe arrivato? Allora. Tra le pin. Tu parli sempre a secondo posto. Ma questa volta, venete bene. Ha fatto ragazzi 100 metri. 100 metri? In un minuto e 41. Un minuto e 41. Ok. Vieni a dare il premio alla nostra... Eccanle. 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 Ok. Riccini. Fate la foto di Vito. Guardatevi. Bravissima. 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 Bravissima.